Musica Siamo qui, in diretta dal Kennedy Stadium di Napoli, Super 11 Ingresso in campo via tutti contro Virtus.Napolis Formazioni che si apprestano a scherzi lì al centro del Manterboso a salutare i propri tifosi nel primo incontro, ricordiamolo, Alessandro Passarella con le squadre Virtus in maietta bianca da tutti in completino giallo Le squadre passano a darsi cinque nel primo incontro chiamerà ora Assi i due capitani che sorteggeranno il tocco per la palla e per il campo E ma sono io che sono nero Come volete voi Ecco i due capitani Proteggiati, il palla e il campo è stato inizio il match, un saluto a Buleccia ragazzi 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 Un saluto a Buleccia ragazzi